Prima o poi, arriva il momento per tutti, di crescere, di prendersi le proprie responsabilità. Io sono uno dei tanti, uno di quelli che deve farlo, vittima di un sistema che si nutre delle nostre ansie e paure. No, mi prego, non andate! Devo andare, lo sai che non posso. Se vuoi posso assistere! Risparmiati la mia esecuzione. Vabbè, dai! Alla fine è solo un esame. Solo un esame, dici? E che ne sai tu? L'ho fatto l'anno scorso. Taci! E sono anche più piccola di te. Ho studiato così tanto! Beh, insomma... D'ah! Diciamo che nella vita puoi scappare da un sacco di situazioni spiacevoli, ma purtroppo la maturità è un po' come la cacca. Non puoi scappare da essa, ma più si avvicina e più senti il suo odore. Benvenuti in Maturità, effetti collaterali. E devo assolutamente buttare giù qualcosa per la tesina che sia inerente al mio percorso didattico e non devo assolutamente distrarmi. Ed è per questo motivo che per l'essere umano è impossibile leccarsi i gomiti. No! Devo assolutamente concentrarmi! Vabbè, studio domani. Ed è questo il motivo per cui tutto attaccato si scrive staccato e staccato si scrive tutto attaccato. No, vabbè, ma questo è incredibile! No! Adesso basta! Devo concentrarmi! Oh, mio Dio! Non ci ho capito un cazzo! Bene, di cosa vuole parlarci oggi? Beh, sa perché gli esseri umani non riescono a leccarsi i gomiti? Ma che ca... Ma che cosa vuole parlare? Non ci ho capito un confine. Nostante questo libro? Grazie.